Io non soffro di vertigini, vi dico la verità, quindi si sta bene, si sta bene i tifosi, stanno bene in società, sta bene tutti, però il difficile arriva adesso, il difficile arriva ora con una partita complicata ma con il proseguo della stagione perché la voglia di continuare su questi ritmi è tanta, però anche la consapevolezza che sarà complicato è normale che sia così, una partita complicata, la gara di domani, una partita dove andiamo ad affrontare un avversario che in questo momento ha tratto grandissimi benefici dalla situazione complicata societaria. Sono sempre stati un gruppo forte, sono sempre stati molto uniti con lo staff tecnico e con la tifoseria. A ora non dovrebbe essere tanto lontana da quella delle ultime due gare, però c'è un problemino sorto ieri su un polpaccio, su un ragazzo che dovrò valutare oggi e comunque l'obiettivo è sempre quello, non è che sei a fine stagione o a un margine di vantaggio così ampio da poter buttare anche un occhio a cosa hanno fatto le altre. La squadra è da luglio che è sempre stata per mentalità mia, perché secondo me è giusto fare così, proiettata, andare alla ricerca sempre del massimo risultato.